Fu nel parco di un manicomio che incontrai un giovane con il volto pallido e bello, colmo di stupore, e sedetti accanto a lui sulla panca e dissi «Perché sei qui?» e lui mi rivolse uno sguardo attonito e disse «È una domanda poco opportuna, comunque risponderò». Mio padre voleva fare di me una copia di se stesso, e così mio zio. Mia madre vedeva in me l'immagine del suo illustre genitore. Mia sorella mi esibiva il marito marinaio come il perfetto esempio da eseguire. Mio fratello riteneva che dovessi essere identico a lui un bravissimo atleta, ed anche i miei insegnanti, il dottore in filosofia e il maestro di musica e il logico erano ben decisi. Ognuno di loro voleva che io fossi il riflesso del suo volto in uno specchio. «Per questo sono venuto qui. Trovo l'ambiente più sano. Qui almeno posso essere me stesso». E di scatto si volse verso me e chiese «Anche tu sei qui a causa dell'educazione e dei buoni consigli?» Ed io risposi «No, sono qui in visita». E lui disse «Ah, ho capito. Vieni dal manicomio dall'altra parte del muro». Ed io risposi «iasco siano».